Musica Ben ritrovati tante le notizie all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Scaderà domani il termine ultimo per la presentazione delle liste in vista delle elezioni europee e amministrative in programma il 26 maggio. Dal ponte di Caratrava, piazza Santa Teresa, all'abbandono dei rifiuti, Cosenza presa di mira dai vandali che deturpano siti e monumenti cittadini. Ancora problemi per chi viaggia in treno sulla tratta Cosenza-Paola, la Galleria Santo Marco, interessata da lavori di sistemazione, chiuderà il 6 maggio. Il continuo cambio di guida all'AF di Cosenza, paralizzato la gestione dell'azienda, oltre 400 delibere ferme, si rischia il blocco dei 116 automezzi utilizzati per i servizi aiutanti. Il ciclista della Nazionale, Domenico Pozzovivo, dopo la rovinosa caduta di mercoledì scorso, ha deciso di lasciare la Svizzera scegliendo Crotone per il delicato intervento maxillofacciale. Il Crotone domani a Venezia punta a raggiungere la quota salvezza. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, mancano davvero poche ore all'ufficialità, parliamo del termine ultimo per la presentazione delle liste in vista delle elezioni europee ed amministrative in programma il prossimo 26 maggio. Adesso si fa sul serio, finita la fase della tattica e delle ipotesi di alleanze, la competizione elettorale assume i caratteri dell'ufficialità, nel senso che domani è il termine ultimo per la presentazione delle liste. Nulla quindi potrà essere modificato. Come si dice in questi casi, non sono più consentiti ripensamenti. Il dado è tratto. Attenzione adesso sui temi proposti dai vari schieramenti in campo. Lasciamo da parte le europee che tratteremo in seguito perché la competizione più complessa non fosse altro che per il respiro internazionale degli argomenti che saranno oggetto del confronto politico. Di tutt'altra natura le amministrative, dette anche elezioni di prossimità, che attengono al governo delle città e quindi assai più attenzionate dai cittadini. In Calabria la competizione interesserà una sola città capoluogo di provincia, Vibo Valencia, complessa realtà politica regionale per la cui guida. Si sfideranno in quattro. Da Vibo a Renne, anche qui il confronto elettorale sarà molto interessante per la presenza di ben sette candidati alla carica di sindaco. In questa tornata figura anche la città unica dello Ionio Cosentino Corigliano Rossano, che dopo il referendum è pronta alla sfida, quattro gli aspiranti per guidare la terza città della Calabria. L'occhio lo ruba anche Montalto Fugo, realtà frizzante dal punto di vista politico. Le proposte in campo sono tre. Ora aspetterà i candidati a trarre i consensi necessari per nutrire ambizioni di governo. L'operazione non si preannuncia semplice, visto il distacco manifestato a più riprese dai cittadini nei confronti della politica. Anche se per le amministrative il discorso è diverso e la percentuale di chi rinuncia ad esercitare il diritto al voto non ha mai raggiunto livelli allarmanti. A Cosenza adesso, perché ci sono scritte, disegni e spray colorati, il ponte di Calatrava è da qualche tempo imbrattato dai vandali che hanno sporcato le basi della struttura. Ma il degrado causato dai incivili non manca in altre zone di Cosenza, da piazza Santa Teresa, sede della Movida, alle strade dove spesso appaiono micro discariche di rifiuti, fenomeni da contrastare per il bene della città. Vediamo. Il ponte di Calatrava a Cosenza può piacere o non piacere, ma di certo è un'opera da rispettare. Non la pensano così i vandali o incivili, possiamo chiamarli in entrambi i modi, che l'hanno preso di mira dal mese di gennaio e ne stanno imbrattando le superfici. Il ponte sul fiume Crati è una delle attrattive della città. Sono tanti i visitatori che lo attraversano al solo scopo di ammirarlo, eppure c'è chi lo sporca. Si va dalle classiche dediche ricordo da coppietta di innamorati, alle scritte offensive e volgari, fino alle frasi senza senso impresse con lo spray, quasi indelebile, tanto che anche chi ha cercato di rimuoverle ha lasciato un alone colorato. Lasciamo a un passante il compito di commentare. E' brutto che stanno rovinando tutta la bellezza che c'era. Sono ragazzini che... non so che dirti. Realmente è un peccato. Eh sì, è un peccato. E' brutto da vedere. Alla categoria vandali appartiene anche chi ha divelto questa ringhiera sulla scainata adiacente alla chiesa di Santa Teresa. Era lì da almeno 60 anni. La zona è frequentatissima di sera da tanti giovani mal tollerati dai residenti che lamentano schiamazzi di notte e sporcizia di mattina. La movida non è un male, l'inciviltà sì. E poi c'è il fenomeno degli abbandoni. La città è da anni ancorata al sistema della raccolta differenziata, con ottimi risultati, ma in diverse zone si creano delle microdiscariche. Via Pupiglia, Via degli Stadi, le zone più critiche. Le immagini si riferiscono invece a Via Padre Giglio, dove nonostante gli interventi di raccolta straordinaria ciclicamente effettuati dagli operatori di ecologia oggi, questo è lo scenario. Un dato chiarisce l'entità del fenomeno. Il 30-40% della quota residua cittadina proviene proprio dagli abbandoni. Solo l'applicazione e le sanzioni previste ai regolamenti a carico dei trasgressori potrebbe agginare l'inciviltà. Notizie di pubblica utilità chiude la Galleria Santo Marco sulla tratta Cosenza Paola per lavori di potenziamento e manutenzione. Lo stop alla circolazione ferroviaria dal 6 maggio al 23 giugno e già ci sono e si prevedono disagi per chi deve viaggiare. Vediamo. Nuova chiusura per la Galleria Santo Marco e il tunnel ferroviario sulla tratta Cosenza Paola. Sono infatti necessari i lavori di potenziamento e manutenzione dell'armamento ferroviario dell'infrastruttura. Opere programmate da tempo. Così dal 6 maggio al 23 giugno ci sarà il blocco totale della circolazione ferroviaria. Ritornerà dunque il servizio dei busnavetta da una stazione all'altra. Certo, non è una buona notizia per i pendolari, visto che con il percorso su gomma si allungano i tempi di percorrenza. Gli interventi inizieranno dunque come era stato richiesto dal sindaco di Paola, subito dopo i festeggiamenti civili e religiosi per il quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola che avverranno nella settimana tra il 29 aprile e il 5 maggio. Nella cittadina tirrenica sono attesi numerosi turisti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero e lo stop alla circolazione ferroviaria avrebbe determinato ulteriori disagi. Slitta il 6 maggio quindi l'apertura del cantiere lungo i 15 chilometri del rettilineo. Lavori necessari certo, ma c'è malumore tra gli utenti che per circa 50 giorni dovranno viaggiare sui pullman che sostituiranno i treni sulla statale 107. Più traffico, meno corse e inevitabilmente maggiori disagi. La sanità è una pagina che non manca mai all'interno del nostro Tg perché è un settore complesso e delicato. Oggi vi parliamo dell'ASP di Cosenza perché il continuo cambio di guida all'azienda sanitaria provinciale della città dei Bruzzi ha paralizzato la gestione dell'azienda. Sono oltre, pensate, 400 le delibere ferme. Si rischia il blocco di 116 automezzi utilizzati per i servizi agli utenti. Vediamo. Cosa succede all'ASP di Cosenza? Beh, nulla, nel vero senso della parola. È tutto fermo, ingessato, paralizzato. L'azienda ha cambiato due commissari nello spazio di un mese e mezzo senza combinare niente. C'è una montagna di delibere da firmare, c'è chi dice oltre 400, ma nessuno al momento si è assunto la responsabilità di apporre la firma necessaria per rendere operative le decisioni assunte. Al momento il commissario Fico ne ha firmato solo due. La prima riguarda l'immissione in azienda di tre avvocati. La seconda è l'assunzione di 50 infermieri che andranno a rimpinguare gli organici degli ospedali di Paola, Cetraro, Castrobilleri, San Giovanni e Fiore. Per il resto zero, nonostante i tanti problemi che assillano l'offerta sanitaria territoriale. A breve, l'azienda potrebbe addirittura non poter più utilizzare i 116 mezzi di cui dispone e con i quali garantisce i servizi di competenza dell'ASP, come ad esempio il trasporto dei farmaci, degli ammalati. Ebbene, per l'utilizzo di questi mezzi, l'azienda paga un canone mensile alla società fornitrice. Il guaio è che da oltre quattro mesi la società in questione non riceve la somma dovuta e ha già fatto sapere ai vertici dell'ASP che, se dovesse perdurare questo stato di cose, si vedrà costretta a ritirare i mezzi messi a disposizione. Anche qui il problema è una delibera che, seppur già pronta da mesi, non reca ancora la firma del commissario. Quest'ultimo, più volte sollecitato, pare non abbia trovato il tempo necessario per apporre la sua sigla. È solo uno dei tanti problemi in cui si dibatte l'azienda che lamenta preoccupanti limiti di gestione. La domanda è, si può affidare la guida della più grande ASP della Calabria ad un commissario già impegnato a gestire un'altra azienda, sapendo benissimo che il designato non può dedicarsi a tempo pieno? Molte ombre, lo avete visto nella salita, ma c'è anche qualche luce. È il caso, è la storia di che vi vogliamo raccontare, del ciclista della Nazionale, Domenico Pozzovivo, che dopo la rovinosa caduta di mercoledì scorso ha deciso di lasciare la Svizzera e farsi curare con un delicato intervento maxillofacciale a Crotone. Vediamo. Eccole le immagini dell'incidente in cui è rimasto seriamente ferito Domenico Pozzovivo, il ciclista della Baren Merida, caduto mercoledì scorso durante la Frecciavallone, l'atleta operato a Crotone nella clinica odontoiatrica specializzata in intervento maxillofacciali. Il paziente ricoverato ieri è stato immediatamente messo a proprio agio, sono stati eseguiti degli esami di routine TAC e panoramica dentaria e in sinergia con il reparto di ortopedia del Marrelli Hospital si sono proceduto ad eseguire delle medicazioni e una riduzione delle fratture delle ossa nasali, intervento della durata di mezz'ora all'incirca, con delle ricostruzioni estetiche di alcuni elementi dentali fratturati, con la caduta rovinosa. E la moglie del ciclista, lei è di origine calabrese, a raccontare la scelta del marito. La coppia, residente in Svizzera, controcorrente, ha preferito affidarsi ai sanitari crotonesi. Nonostante la nostra residenza in Svizzera, dove la nomea è eccezionale per quanto riguarda la sanità e soprattutto questo aspetto, diciamo, l'odontoiatria, siamo scesi a sud e siamo qui a Crotone, per cui Domenico, il suo corpo è il suo lavoro e se Domenico Pozzovivo ha scelto questo posto, vuol dire che questo posto è sinonimo di garanzia. Domenico Pozzovivo sta bene, ha voglia di tornare al fianco del suo capitano Vincenzo Nibali per proseguire la preparazione in vista del Giro d'Italia. Si cerca di recuperare anche dalle ferite, che sono abbastanza profonde, ma sono molto ottimista per il Giro. Già il secondo giorno senza bici è dura, però cerchiamo di fare le cose con gradualità per non compromettere poi un recupero ottimale. E da Crotone a Catanzaro perché la CGL è scesa in piazza in difesa dei diritti. Vediamo. La CGL è in piazza a Catanzaro, tornano i banchetti e le bandiere, la battaglia sui valori della democrazia come insegna la storia della resistenza. Le giornate più importanti della liberazione partono dal 18 di aprile al 27 di aprile con i moti insurrezionali, delle grandi città liberate, Milano che il 25 aprile viene liberata dai nazifascismi e questo parte dalle fabbriche, parte dalla Innocenti, parte dalle officine meccaniche, parte dalla Pirelli. È partita questa liberazione da un moto d'insieme di tutti i gruppi del Comitato di Liberazione Nazionale, quindi gruppi dell'Azionariato Cattolico e Democratico, del Partito Comunista, del Partito Socialista, del Movimento Cattolico, ecco, tutti insieme contro il fascismo e contro il nazismo per dare la libertà al nostro paese. Il no forte e chiaro è quei fenomeni di autoritarismo nostalgico che da nord a sud rispuntano nel nostro paese. Proprio ieri il Presidente Mattarella ha lanciato un monito preciso, quello cioè di non barattare l'ordine con la democrazia, parole che ha fatto su il sindacato con un appello ai prefetti. La nostra Costituzione persegue quelli che oggi creano movimenti fascisti nuovi, quindi i prefetti e le autorità istituzionali non devono permettere che ciò avvenga. Cioè non si può colpire il movimento dei lavoratori che manifesta e poi non perseguire questi movimenti che sono contro la nostra Costituzione e contro la legge. La resistenza oggi ha tanti significati. Non è un caso che al fianco della CGL ci siano i ragazzi di San Ferdinando, i migranti delle tendopoli che quotidianamente lottano per i diritti per una vita migliore. Il tema oggi dell'antirazzismo e quindi di come si rimette insieme un movimento per creare unità anche di valori rispetto alla globalizzazione, rispetto alle forze che devono fare dell'antifascismo e dell'antirazzismo dei valori è un segnale che bisogna dare anche al governo. Il nostro paese è molto e molto più avanti di quanto non lo sia la classe dirigente. A Vibo dove si è concluso il processo in abbreviato per l'operazione denominata Stammer 2 Melina. Vediamo. 150 anni di carcere con condanne che vanno dai 3 ai 20 anni di reclusione sono le risultanze del processo corrito abbreviato celebrato davanti al gruppo di Vibo Valencia scaturito dall'operazione Stammer 2 Melina, nata da uno stralcio dell'inchiesta denominata Stammer con cui erano state già colpite nel febbraio del 2017 le indrine del Vibonese che secondo l'accusa avrebbero messo in piedi un traffico di stupefacenti con i narcos del Sud America. La nuova operazione scattata il 1 marzo del 2018 aveva invece consentito di stabilire come il sodalizio fosse composto non soltanto da calabresi, vibonesi in particolare, in veste principalmente di finanziatori ma anche da pugliesi, essenzialmente quali intermediari e albanesi, quali fornitori della sostanza stupefacente. Tre frange dunque per una movimentazione di droga e denaro di imponente quantità con ruoli e funzioni ben stabiliti. Molte delle spedizioni effettuate dall'organizzazione infatti sono finite nella rete degli investigatori della Guardia di Finanza che nel corso delle indagini ha effettuato numerosi sequestri in particolare a largo delle coste Brindisine. A Siderno, personale del commissariato della Polizia, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP di Locri nei confronti di due donne di nazionalità romena accusate di rapina aggravata nei confronti di un ottantenne aggredito il 28 marzo scorso all'interno della sua vettura. In particolare, secondo l'accusa, le due donne si sono introdotte nell'auto prendendo posto l'una sul sedile anteriore, lato passeggero, l'altra sul sedile posteriore. Le due donne, nonostante questo, non avevano abbandonato l'auto e minacciandolo e usando violenza per impedirgli di urlare, hanno sottratto al pensionato il telefono cellulare, l'apparecchio acustico del valore di 1.600 euro per poi allontanarsi. Le due sono state rintracciate poco dopo dagli agenti, grazie alla descrizione da parte della vittima e trovate con parte dell'area furtiva. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Potrebbe trattarsi di un caso di lupara bianca. Questa è una delle ipotesi avanzate dagli investigatori impegnati nelle ricerche di Rosario e Salvatore Manfreda, rispettivamente di 67 e 34 anni, i due elevatori scomparsi allo scorso 21 aprile da Petiglia a Policastro. Il ritrovamento dell'auto, a bordo della quale padre e figlio si sono allontanati il giorno della scomparsa, rinvenuta bruciata nelle campagne di San Mauro Marchesato, abbalora l'ipotesi della lupara bianca. Accanto alla vettura sarebbero state rinvenute tracce biologiche. In auto aveva un laboratorio della cocaina in manette e finito un 53enne di Mileto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era alla guida della sua auto quando, nei presti di San Calogero, sulla Statale 18, è stato fermato dai carabinieri militari all'interno della vettura. Hanno trovato 10 grammi di cocaina suddivisa in 5 dossi e pronta per essere messa sul mercato. 3.600 euro in contante, materiale vario per il taglio e il confezionamento. Brutta avventura per un anziano che, percorrendo una strada interpoderale a bordo di una Fiat 600, ha perso il controllo dell'auto finendo in un dirupo. Abbandonata la vettura, il malcapitato, disorientato, ha iniziato a vagare nei campi limitrofi, senza riuscire a ritrovare la strada principale. L'anziano è stato ritrovato tra i comuni di Acconi e Pizzo, nel Vibonese, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. L'uomo era illeso, ma in evidente stato confusionale. Senza acqua le zone collinari di La Mezzaterme a causa di una rottura sulla condotta idrica a Platania. La Sorica l'ha comunicato che è stata interrotta la fornitura idrica ai serbatoi di accumulo delle zone collinari di Nicastro e San Biase, tecnici al lavoro per la riparazione del guasto. Decine di migliaia di rapaci, soprattutto falchi peccaioli, hanno iniziato ad attraversare in queste settimane la Sicilia e lo stretto di Messina per risalire la penisola. Per proteggerli, la LIPO organizza un campo anti-bracconaggio che si concluderà il prossimo 11 maggio in sinergia con i Carabinieri Forestali, i WWF, le Gambiente e l'Associazione Mediterranea per la Natura nell'ambito del coordinamento operativo locale. Il campo anti-bracconaggio vigilerà sulle aree di migrazione della sponda calabrese dello stretto di Messina. Siamo allo sport, al calcio, cominciamo con la Serie B, il Crotone domani a Venezia. Punta a raggiungere la quota salvezza, vediamo. Dai sogni all'incubo che Venezia e Crotone vogliono scongiurare. Alpenzo, domani alle 15, una sfida da dentro o fuori. Veneti a caccia del successo che vale il sorpasso. Rosso-blu, intenzionati a non tornare battuti in Calabria. Siamo pronti, prontissimi, sotto tutti gli aspetti. La squadra è carica, si è allenata benissimo e quindi sono molto fiduciosi. Sicuramente faremo una grandissima prestazione. Partita difficile, come poi del resto tutte e sempre nel campionato, a maggior ragione domani, essendo uno scontro diretto e mancando soltanto quattro partite, tre dopo questa, i punti secondo me potrebbero pesare molto. Abbiamo il vantaggio di avere un punto di distacco. Questo non significa che non andiamo per poter portare a casa la posta piena. Però di sicuro ci vorrà un atteggiamento, ci vorrà maggiormente la concentrazione e la cura dei dettagli. Per il tecnico Stroppa le maggiori difficoltà si riscontrano in difesa. La maxisqualifica di Golemic e gli acciacchi di Spogli e Curado rendono complicato il compito del tecnico. Non rischierò Spogli perché si trascina il solito problemino. Essendoci poi tre partite ravvicinate in una settimana, lo portiamo, lo porteremo in panchina. Se ce ne sarà bisogno sarà degli undici, ma in partenza non credo di utilizzarlo. Non è nelle mie corde pensare di andare a Venezia a gestire, ma di sicuro l'attenzione deve essere a portare a casa i dei punti. E' uno scontro diretto, loro stanno sotto e quindi se dicevamo che il Venezia avrà accorgimenti, sarà più a corte, non vedo perché non dovremmo farlo anche noi. La Serie C in campo domenica per gli ultimi verdetti. Catanzaro e Regina pensano ai play-off. Vediamo. 180 minuti al termine della stagione regolare, ma il Catanzaro pensa già alla post-season. Parola di Alessandro Favalli, il figlio d'arte, guarda oltre e pensa ai play-off promozione, dove dice non sono più ammessi i cali di concentrazione. Secondo me ora non c'è più da guardare dietro i punti che abbiamo perso, ma secondo me è concentrarsi sulle partite che vengono. Affrontare queste ultime tre partite di campionato per prepararsi al meglio per affrontare i play-off. e dire la nostra ai play-off, perché abbiamo una squadra forte e può dire la sua e arrivare fino in fondo. Secondo me è più una cosa mentale. Dobbiamo essere più tranquilli, forse quando si va in vantaggio, cercare di chiudere la partita, ma soprattutto di concentrarsi al massimo per cercare di non prendere gol, di non subire, di non far ritornare gli avversari. Ci stiamo lavorando e speriamo di risolvere questa cosa che si è verificata nelle ultime due partite. Poi parla della sfida con il Siracusa, il penultimo impegno, e poi toccherà al Trapani. Servono due piccoli sforzi per conquistare almeno la terza posizione e guardare con fiducia al cammino promozione. Sicuramente non c'è da sbagliare la partita di domenica che viene, soprattutto quella contro Aviterbese, il ritorno. Però secondo me ora è giusto pensare partita dopo partita, come sempre. Credo che comunque non sarà una partita semplice, perché come hai detto, giocano in casa davanti ai propri tifosi e sicuramente vogliono far vedere quello che sono capaci di fare, il loro gioco. E poi giocando magari contro una squadra che lotta per il terzo posto, vogliono far vedere quello che sono capaci di fare. Quindi sicuramente sarà una bella battaglia. Ultimo sforzo per il Rende che affronterà la Viterbese mentre spicca il derby del Razza fra Vibonese e Regina. I Amaranto vogliono consolidare i play-off, mentre i Rosso-Blu proveranno fino all'ultimo a cercare di raggiungerli, anche se è un'ipotesi improbabile. Sold out a Vibo per una sfida da tripla. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Nel fine settimana le correnti di Scirocco, protagoniste assolute dei giorni scorsi, lasceranno spazio a venti più freschi a causa del transito al centro nord di una perturbazione di origine atlantica. Domani al mattino possibili piovaschi sparsi, in particolare sui monti, poi sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in lieve calo. Domani mari generalmente mossi, con venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Regia Michele Cava, a Messinonda, a Giuseppe Costanzo e a Francesco Camposani. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.